Sicuravalli! 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 La mia vita è la mia vita, la mia vita è la mia vita, ma io sono il tuo Il portone temporale, sono un tempo forte che... E' la mia vita è la mia vita, ma io sono il tuo Ma non ha mai più tempo, ma non ha mai più tempo Ma che anzio le si fa a sentire la carta che conta non c'è niente Non si sa di, ma non si sa di, ma non si sa di, ma non si sa di L'angelo non è, non non è, non è, non è, non è, non è, non è, non è Grazie per la visione! L'espirare, l'espirare, l'acqua di più si prova quando che tu Le ragioni si fa da sentire, ma si consa, non c'è niente di più L'espirare L'espirare Grazie Mi starete chiedendo ma chi è questa ragazza, questa cantante, non so se definiti più ragazza, ragazzina, bambina O piccola donna, donnina, adolescente, non lo so Insomma lei è neri poter, si chiama Cristina Russo Grazie Anche lei vuole cantare Tosta, ti lo dico Grazie a venire i tuoi amici